ben ritrovati a tutti nell'appuntamento meteo partiamo sud con l'immagine del satelite che ci mostra l'alta pressione afro mediterranea che va rinforzando sulle nostre regioni con una fase di tempo stabile e solgiato sia su molise puglia e basicata con condizioni di tempo bello e solgiato detto ciò vediamo il tempo previsto nel giornale domani partendo appunto dalla mattina quindi dal primo mattino con condizioni mete generalmente serene sapo o non si escludero isolati a nuova merdi soprattutto nelle zone interne nel corso del pomeriggio uno sguardo ai venti che saranno generalmente o meglio tendentemente dei quadranti nord occidentale soprattutto sulla puglia meridionale e infine i mari che saranno generalmente in regolare o morsi o poco morsi quelli del bacino del tarantino poco poco morsi quelli del bacino settentrionale non mi piace che auguravi buona serata a tutti e arrivederci a domani con le prisioni meteo